Ciao da AFSIM! Scopriremo probabilmente nei prossimi giorni quale sarà il destino di Antonio Conte e che cosa eventualmente cambierà sulla panchina dell'Inter. Per chi ci interessa? Beh, perché parliamo della seconda squadra del campionato italiano per quanto riguarda la stagione che si è appena conclusa, perché riguarda Antonio Conte tanto pompato dai giornali, dai media per tutta la stagione e perché potrebbe, dovrebbe riguardare anche un'altra nostra vecchia conoscenza come Juventini, e cioè Massimiliano Allegri, molto più recente rispetto naturalmente ad Antonio Conte, con evidentemente un meccanismo che o si innesca da solo oppure sono loro all'Inter che ogni volta vanno sempre per quella strada, e cioè andare a riprendere tutti quelli che sono fuoriusciti dalla Juventus, o direttamente o aspettando che facciano altre esperienze come nel caso di Conte e nel caso di Allegri che in realtà più che altre esperienze si è preso un anno sabatico pagato dalla Juventus. Poi questo stipendio è finito a fine giugno e Allegri è alla ricerca di una squadra, non ne ha trovata finora, Barcellona ha cambiato, il Paris Saint Germain potrebbe cambiare, ma molto dipenderà dall'esito della finale di Champions League domani sera, e non è che ci sono poi molte altre squadre che possono andare a prendere soprattutto all'estero Massimiliano Allegri. C'è anche Pochettino per chi avesse la necessità di cambiare allenatore che è libero, quindi può darsi anche che Allegri invece di andare all'estero, cosa che aveva detto, fatto capire per tutti questi mesi, tornerà in Italia. E in Italia Allegri dove può andare? Visto che il Milan per esempio ha confermato Pioli e il Napoli sta confermando Gattuso, che fa? Va alla Roma? Che ha confermato? Pare? Fonseca? Evidentemente può andare soltanto all'Inter. Ma ci arriviamo dopo, perché comunque ci sono già delle voci, delle indiscrezioni importanti, molto importanti, concrete su Allegri all'Inter. Prima però bisogna capire se veramente Antonio Conte lascerà l'Inter oppure no. Le dichiarazioni di ieri ve ne ho un pochino già parlato, ma voglio andare un po' più ad approfondire. Le dichiarazioni di Conte a Sky erano prevedibili. Io appena non ho guardato la partita, ho guardato il risultato sullo smartphone, appena ho visto che l'Inter aveva perso ho detto adesso Conte va e spara a zero e si dimette. O comunque fa capire che. Perché poi anche questo, se sei convinto ti dimetti direttamente davanti ai microfoni oppure fai già capire che la situazione è complicata ed è stata risolta in senso di rottura, negativo. Non è che rimandi tutto e poi vai a ricomporre la frattura. Perché ricordate che alla fine del campionato Conte aveva fatto la stessa cosa. Perso lo scudetto, finita la stagione, aveva fatto delle dichiarazioni, uno sfogo in diretta clamoroso, clamoroso da cacciarlo, poi aveva avuto un confronto con la dirigenza, con Zanghi in particolare, e si erano ricompattati per andare ad affrontare l'Europa League. Fine dell'Europa League stessa cosa. Ora se si ricompattono per andare ad affrontare la nuova stagione, evidentemente a loro va bene così. Ma è possibile, è possibile. E non è neanche una cosa tanto peregrina o criticabile. Cioè sono scelte, sono scelte. Se loro riescono a ricomporre per l'ennesima volta questa frattura a livello progettuale, ma direi anche a livello di feeling, a livello di sintonia professionale, buon per loro, vuol dire che sono anche bravi in questo senso. Però secondo me non è conveniente. Conte ha parlato chiaro di una situazione anche familiare, però non ho ben capito onestamente a cosa si riferisse. Poi Di Marzio ha fatto capire che evidentemente dall'Inter, dall'interno dell'Inter, non trapellano solo notizie di mercato, ma anche altre cose. Non sappiamo che cosa, però evidentemente, forse un pochino di ragione Antonio Conte sul fatto che non è stato abbastanza tutelato dalla dirigenza per quanto riguarda le sue situazioni personali, ce l'ha. Poi alcune cose noi onestamente non le abbiamo sapute. Ricordate che a Conte fu anche recapitata una busta con proiettili mesi fa. Forse faceva riferimento a quello, forse faceva riferimento semplicemente al fatto che questa stagione è stata snervante, è stata stancante, ha dovuto dare tutto se stesso, ha dovuto sacrificare la famiglia e non ce la fa più. Ha bisogno quindi di recuperare un po' della sua vita, praticamente, e nel caso rinuncerebbe anche ad un sacco di soldi. Perché 11-12 milioni a stagione sono 22-24-23 per i prossimi due anni, che sono assicurati ad Antonio Conte, anche se dovesse essere esonerato. Ma ecco, l'Inter può permettersi di esonerare Conte, perché poi sono 23-24 più il Lordo, attenzione, è quindi una cifra molto grossa, più pagare il nuovo allenatore e finire di pagare, credo, anche Spalletti, non so fino a quando. Quindi è una situazione che, dal punto di vista economico, non sostenibile, anche se parliamo della società che sta per prendere Lionel Messi, però, appunto, se prendi Messi non puoi permetterti di pagare tre allenatori o viceversa. A parte il discorso economico, però, c'è anche un discorso, evidentemente, di progettualità, perché Conte potrebbe anche pensare di dimettersi, e quindi rinunciare, appunto, a tutti quei soldi, ma in ogni caso, il progetto dell'Inter sarebbe risultato, a questo punto risulterebbe fallimentare. E l'alternativa sarebbe quella di Massimiliano Allegri. Ripeto, su Conte ho detto quello che volevo dire, cioè, la situazione è questa, bisogna adesso vedere che cosa diranno e che cosa faranno. Le opzioni sono queste, o resta, o viene esonerato, o si dimette, non ce ne sono altre, ma, secondo me, più probabilmente, lo fanno dimettere, si dimette, trovano un accordo, perché, onestamente, tutti quei soldi non credo che possano gravare sul bilancio dell'Inter, nonostante si dica che la Juve non ha un soldo, mentre l'Inter, appunto, può andare a prendere Messi. A proposito, piccola parentesi, ma adesso Messi che cosa farà? Perché ci avevano detto, soprattutto Gazzetta dello Sport, che se l'Inter avesse vinto l'Europa League, avrebbe poi preso anche Messi, perché, come ben sapete, Messi nutre grande fascino per le squadre che vincono l'Europa League. Infatti, adesso Messi andrà al Sevilla, vero? Evidentemente, no. Era tutta quanta una fesseria. Comunque, a parte il discorso Messi, parliamo di Allegri, perché veramente fioccano in discrezione sul fatto che Allegri sia pronto. Allegri e il suo staff sono pronti ad andare all'Inter. Clamoroso. Questo significa tante cose, perché nei mesi, anche da parte dei giornalisti, e ne ha di giornalisti amici, Massimiliano Allegri, e ne ha, buon per lui significa che è una bella persona, che è una brava persona, che è riuscito ad avere attorno a sé persone che lo stimano e gli vogliono bene. Attenzione. Però, quando si fa il giornalista, bisognerebbe limitarsi a fare il giornalista, e non l'amicone di turno. Secondo me, che non sono giornalista, quindi probabilmente mi sbaglio, e non intendo insegnare il mestiere a nessuno. Però, viste le dichiarazioni che abbiamo sentito, tipo, con Allegri il Manchester City avrebbe vinto 5 Champions League, due domande su certe affermazioni, te le fai su da dove provengano. E quindi, la tanta amicizia, e comunque la stampa a favore, diciamo così, la stampa a favore di Massimiliano Allegri, ci aveva raccontato un Allegri proiettato verso l'estero, pronto ad accettare panchine, a cercare panchine straniere, stava studiando l'inglese, e probabilmente ci sarebbero state delle offerte. Ma, se tu sei pronto, nel momento in cui, forse l'Inter caccia Conte, o Conte se ne va dall'Inter, alla fine, ma proprio alla fine, alla fine di una lunghissima stagione, mentre le altre panchine sono state già organizzate, e gli altri verdetti sono stati già acquisiti, vuol dire che tu, non avevi offerte, e non avevi intenzione, o, entrambe le cose, di andare all'estero. E quindi era tutto falso quello che era stato detto, altro che andare a qualche squadra straniera. Poi vediamo, può darsi anche che, non lo so, il Paris Saint Germain perde la Champions League, esonera Tuchel, e va a prendere Allegri. Può darsi, così può darsi che Conte rimanga. Però, al momento, in questo sabato, 22 agosto, stanno dicendo tutti, che Allegri è già il nuovo allenatore dell'Inter. Praticamente. L'ha detto anche Sky. Diciamo, più che altro, facendone un discorso di pronostico, ecco, la sensazione, ha parlato in questi termini, non ha parlato certamente di accordo. Però, è chiaro che, se se ne va a Conte, per un motivo, o per un altro, l'Inter dovrebbe fiondarsi su Allegri, a quanto pare. Perché? Perché l'ha già fatto Marotta nel 2014. Conte sbatte la porta, come sbatterebbe la porta in questo caso, e vai a prendere Massimiliano Allegri, che in quel momento era esonerato e pronto, era libero. La stessa cosa andrebbe a fare. D'altra parte, i rapporti tra Allegri e Marotta sono sempre stati ottimi, forse anche migliori rispetto a quelli tra Allegri e Paratici. Non migliori rispetto a quelli tra Allegri e Agnelli, perché Agnelli, Allegri, l'avrebbe tenuto, ancora oggi e in eterno probabilmente, e hanno un grandissimo rapporto d'amicizia, come palesato da entrambi nella conferenza stampa di addio di Allegri alla Juventus il 18 maggio del 2019. Ma quello appartiene al passato, il futuro potrebbe essere quindi Allegri sulla panchina dell'Inter, il che ripeto sarebbe clamoroso, perché vai a prendere Marotta, vai a prendere i nostri calciatori, vai a prendere Conte, poi vai a prendere anche Allegri, praticamente la strategia dell'Inter pare essere quella di copiare la Juventus. E infatti, come in un meme che circola, perdono anche le finali europee, come noi. E va bene, sorvolando sul sarcasmo, però seriamente, Allegri potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Inter. E questo che cosa comporterebbe? Che cosa cambierebbe a livello di gerarchie nel calcio italiano? Che cosa dovrebbe farci pensare come tifosi della Juventus? Giustamente per tanto tempo sostenitori di Massimiliano Allegri. Ora, al di là delle varie fazioni all'interno del tifo bianconero, di cui faccio parte anch'io idealmente, è chiaro che uno che ti ha allenato la squadra per cinque anni e ti ha portato undici trofei e ti ha dato anche il piacere di disputare, seppur perdendole male, due finali di Champions, lo vedi sulla panchina dell'Inter un po' ti dispiace, un po' ti disturba, un po' ti dà fastidio. Però di qui ad avere paura, ad avere terrore, ad avere timore di dover affrontare Allegri sulla panchina dell'Inter, secondo me ce ne passa. Eppure è quello al quale stiamo già assistendo e volevo parlare un po' ai tifosi della Juventus in questo senso, e cioè passare dall'avere paura di Conti all'Inter, all'avere paura di Allegri all'Inter, praticamente senza soluzione di continuità, prendendovi soltanto qualche minuto per tirare un profondo sospiro di sollievo alla fine di Siviglia-Inter 3-2, onestamente non si può. Cioè, è da maggio 2019 che state così. Datevi una regolata, calmatevi un attimo. Cioè, siamo alla Juventus o no? Abbiamo comunque vinto lo scudetto ai danni dell'Inter di Conte o no? Poi è chiaro che il progetto Sarri è giudicabile in negativo sotto tanti aspetti, in positivo sotto altri, ma comunque abbiamo dimostrato di essere più forti. Comunque abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo. Adesso abbiamo rinnovato entusiasmo, nuovo allenatore, nuovo staff, forse anche qualche giocatore nuovo, qualcuno che se ne va, qualcuno che arriva, aspettiamo che si sblocchi un po' il mercato, ma qual è il problema? Cioè, perché questa cosa quasi, non lo so, di sublimazione un allenatore che ha vinto con la Juve va all'Inter automaticamente vincerà? Ma dove sta scritto? Infatti Conte è uscito dal suo primo anno, forse unico, vedremo, sulla panchina dell'Inter senza vincere nulla. Chi ve lo dice che Allegri appena va all'Inter vince come ha vinto post Conte alla Juve? Ma lo capite che ci sono delle situazioni completamente diverse. E poi, pur ammesso che succederà, non lo possiamo sapere prima, ma perché averne paura? Cioè, siete convinti o no? Siamo convinti o no di quanto è forte la Juve? La Juve è o no più forte dell'Inter? No, perché mi sembra di leggere, mi sembra innanzitutto che non si possano mai fare i complimenti all'Inter. Mi sembra che non si possa mai dire che l'Inter ha dei meriti o ha delle qualità, tranne quando appunto veniva ingigantita l'Inter di Conte e lì anche tanti giuventini non si ha mai dicevi no, però questa Inter non è un Inter formato europeo in Champions finirà male, come avevo detto io ad ottobre e mi sono preso insulti in tutte le maniere, però a parte quel limitato ambito non si può assolutamente fare complimenti, non si possono fare complimenti all'Inter e non se ne possono elogiare qualità e caratteristiche. Però, quindi, l'Inter è subalterna, però poi appena cambia l'allenatore diventa preponderante, diventa il nemico da abbattere, cioè vi fate anche condizionare dalla stampa e dai giornali a questo punto, dai media che vanno a pompare, ecco, poi sarà anche divertente però da questo punto di vista perché pensate a Dani, chiaramente interista, ma non lo dico in senso dispregiativo, poi ieri si è visto chiaramente che facesse il tifo sfegatato per l'Inter, perché la squadra italiana sì, può darsi, ma secondo me anche perché è tifoso dell'Inter di suo, poi Bergomi, ecco, Bergomi ha sempre elogiato a Ligri, devo dire, per non parlare di Mandzukic, ma a Dani che l'ha sempre criticato se lo ritroverebbe nella sua squadra preferita, diciamo così, poi ovviamente io non ho dubbi sull'equilibrio di a Dani che mi sembra sempre molto coerente, estremista nelle sue idee però coerente, dovrebbe fare qualche salto mortale ma tra l'altro lo stesso Allegri a sopportare tra virgolette a Dani dopo i batti becchi quando era alla Juve, però ci faremo, anzi, secondo me ci abitueremo e ci divertiremo pure se veramente Allegri dovesse andare sulla pachina dell'Inter ci sarebbero anche queste ripercussioni evidentemente come vi dico da parte della stampa non solo da parte della tifoseria ma da parte della tifoseria della Juventus ribadisco non ha veramente senso avere paura adesso, adesso, cioè l'Inter l'ha appena finita la stagione noi abbiamo qualche margine in più di vacanza, di riposo, di allenamenti quindi tra l'altro tra l'altro l'Inter non può permettersi secondo me di cambiare allenatore anche per questo hanno tempi strettissimi per preparare la nuova stagione per trovare un modo per ricomporre la frattura e andare avanti per forza perché almeno Conte pur che chiede qualche cambio a livello di giocatore o di dirigenza comunque si tratta di cose marginali rispetto ad un progetto che è già avviato viene Allegri sì, lui è un gestore è già stato abituato a lavorare sulle macerie tra virgolette di Conte sul lavoro già fatto da Conte ma nel 2014 era il secondo giorno di ritiro aveva tutto il ritiro era luglio era metà luglio c'era un mese un mese e mezzo adesso assolutamente no siamo già ad un mese dall'inizio della Serie A e l'Inter deve ancora andare in vacanza e poi fare gli allenamenti quindi non c'è tempo secondo me per cambiare allenatore e per consentire al nuovo allenatore di adattarsi e di lavorare bene anche di questo bisogna tener conto ecco ma in tutto questo contesto voi avete paura se Allegri va sulla panchina dell'Inter ripeto capisco il disagio capisco il fastidio capisco anche il dispiacere di vederlo come nemico come rivale d'altra parte Allegri Juventino non è mai stato veniva dal Milan e ce ne aveva dette ma ce ne aveva dette contro quando stava al Milan poi è stato tutto cestinato e dimenticato e va bene però addirittura avere già già paura prima ancora mi sembra eccessivo e denota evidentemente una scarsa mentalità vincente da parte di una fetta di tifoseria della Juventus ditemi come la pensate nei commenti che cosa farà quindi Antonio Conte che cosa farà eventualmente Massimiliano Allegri e come la prendereste like a questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per i prossimi video ci vediamo molto presto e sempre forza Juve Grazie a tutti